Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mono Sport 07, siamo qui con le pagelle di Cagliari-Juventus 1-3 partite che ha visto la Juventus alla quarta vittoria su 5 partite rispettivamente contro Crotone, Spezia, Lazio e Cagliari ottenute tutte segnando 3 gol con Lazio e Cagliari 3-1, Spezia e Crotone 3-0 di mezzo c'è anche il pari gioco Nillo-Verona ma comunque un buon modo per rilanciarsi ora però serviranno altre vittorie per dare segnali, ora andiamo a vedere le pagelle analizzando i singoli 6 per Wojtek Szczesny, per lui ordinare amministrazione fino al momento del gol subito comunque un gol che non dico che non si poteva evitare però comunque non sono comunque su quelle colpe maggiori comunque un buon 6 se lo porta a casa, spesso quando non fa chissà che parate se per far vedere se in un'occasione subisce gol gli do 5 e mezzo o un senza voto stavolta gli do 6 perché comunque sinceramente ogni volta che il Cagliari si avvicinava alla porta a sto giro mi ha dato più sicurezza 6 anche per l'accoppiata di difensioni centrali Chiellini e De Ligt a De Ligt do qualcosa in più perché comunque mi fa sentire più sicuro di Chiellini quando ci sono i contrasti Chiellini si nota un po' che è deteriorato rispetto a due anni fa quando era ancora in forma diciamo perché da due anni fa questa parte avrà giocato sennò 10 partite però per il resto buona la prestazione di Chiellini, buona anche quella di De Ligt entrambi mettono in campo 90 minuti De Ligt e 65 minuti Chiellini per ritrovare la condizione in realtà comunque alla fine ci sta anche un 6 e mezzo a tutte e due ragazzi poi scegliete voi se dare il 6 a Chiellini o 6 e mezzo però alla fine il compitino entrambi l'hanno fatto la sicurezza l'hanno data però insomma in generale forse De Ligt dà qualcosa in più di Chiellini però se dobbiamo basarci solo su quel Cagliari perché ragazzi alla fine devo valutare solo il Cagliari mica tutta la stagione non è che se De Ligt mi gioca sempre bene devo dare forse un voto in più alla fine i voti sono quelli 6 in più per Alexandro per quanto riguarda questa partita finché in campo fa anche una prestazione migliore del solito perché ha anche fatto qualche bel dribbling in avanti è il suo sesto anno alla Juve però boh non lo so io mi prenderei in alto lezione sinistra perché continua Alexandro a non convincermi io gli metto il 6 in più perché è giusto metterglielo però vedremo quando ritornerà perché insomma è uscito dal suo posto Bernadeschi non ha fatto tanto bene da terzo centrale di difesa comunque sta rendendo abbastanza bene il brasiliano per quanto riguarda invece il colombiano Juan Guillermo Quadrato si porta a casa un 7- ragazzi come al solito dico che se giocasse da esterno invece che da terzino gli darei anche qualcosina in più magari però giocare da terzino 7- perché in fase difensiva bravo, ottimo comunque alla fine fa il terzino quindi un minimo la fase difensiva deve saperla fare un giallo comunque ben speso ma salterà la prossima partita anche oggi assist sono 15 in stagione gli assist di quadrato più i due rigori procurati mamma mia veramente incredibile 6 per Rabiot è l'unico centrale di ruolo le gioca praticamente tutte ha bisogno sicuramente anche lui di riposare vedremo se fino a domenica prossima comunque col Benevento un impegno non lo spiego con chi giochiamo Benevento Torino oddio non mi ricordo ma mi sembra Benevento un impegno sulla carta abbastanza agevole ragazzi dovrebbe magari riposare se recupereranno Arturo e McKennie 7 per Danilo anche lui si dimostra un ottimo centrale alla fine magari in difesa si sta adattando Alessandro a terzo centrale di difesa invece che lui però ragazzi diciamo che Danilo è Danilo dai andiamoci cauti Danilo è Danilo e non ho nulla da dire al riguardo cioè ragazzi è inutile che stiamo a contrattati qua o a contrattati là Danilo è Danilo cioè ragazzi ovunque lo metti ora ho smesso di dare gli oggettivi sei più per Kulusevski da esterno rende sicuramente di più che da seconda punta non fa che non fa chissà quali giocate da permettergli anche un set ragazzi però sicuramente esterno destro è il suo ruolo lui può fare la mezzala l'esterno destro il trequartista che ieri ha giocato in realtà più da trequartista però insomma in generale è questo qui il suo ruolo bravo bravo Dejan Kulusevski bene anche Federico Chiesa che gioca a sinistra ma lui destra o sinistra non fa differenza è veramente una spina nel fianco degli avversari altro assist sono sette gli assist in questa serie A sono gli otto gli assist con la maglia della Juventus perché un gol di un assist l'ha fatto con la maglia della Fiorentina all'inizio stagione però per lui dodici gol in stagione ragazzi nove assist sta facendo veramente una stagione decristo continua ininterrottamente a fare delle ottime prestazioni quattro e mezzo invece per Alvaro Morata Alvaro Morata che ragazzi ha una Juve dove bene o male riesce praticamente tutto almeno nella partita di ieri a Morata non riesce praticamente un cazzo praticamente se hai magnato tu gol davanti al portiere ogni passaggio che fai è sbagliato comunque invece di un quattro li do qua tre e mezzo perché nasce da un suo lancio il rigore di Cristiano Ronaldo a Cristiano Ronaldo da un nove certo se dopo il primo gol fosse stato espulso perché ragazzi lo dico da Juventino sì è un fallo assolutamente da espulsione se hai punito il fallo di Vesino se hai punito il fallo di Chiesa a Crotone se hai punito il fallo di Rabbio con quei cartellini rossi ragazzi ci sta il rosso anche a Ronaldo però per quanto riguarda Ronaldo è sceso in campo con la cattiveria giusta e pur sempre Cristiano Ronaldo di destra di rigore di testa di sinistro veramente incredibile quindi super Ronaldo man of the match a mani basse toglie il posto a Chiesa che è la man of the match da quattro match di fila sei per Leonardo Bonucci entra mette 25 minuti nelle gambe anche lui sempre tornato definitivamente dall'infortunio finalmente abbiamo tutta la difesa intera vabbè in realtà stanno Alexandro e Demirall Rotti però considerato che c'è la sosta nazionale dovremmo avere la difesa intera poi dipende dall'entità dell'infortunio di Alexandro dipende anche da quando vedrete il video sei anche per McHenny deve recuperare la giusta condizione pure lui la sosta nazionale dovrebbe fargli bene ora non mi ricordo se McHenny è stato convocato anzi nelle convocazioni in realtà manco sono uscite però spero non verrà convocato perché dovrebbe recuperare a tempo pieno comunque che bella squadra che c'è l'America cioè McHenny Reynolds Reina Pulisi hanno fatto progressi nel mondo del calcio gli americani e che poi tutti lo chiamano l'americano nessuno che lo chiama McHenny 5 per Bernardeschi lui entra fa il terzino sinistro e fa danni perché il gol del Cagli rinasce sicuramente da una sua marcatura vabbè sicuramente ragazzi Bernardeschi sinceramente il suo ruolo è quello di esterno destro non quello di terzino sinistro che ora Pirlo lo mette terzino è perché da esterno fa più danni dell'acqua però per il resto ragazzi Bernardeschi si dimostra comunque un buon giocatore dai cioè si dimostra comunque un esterno destro non un buon giocatore potrebbe dimostrare un buon giocatore ma quando gli incolla a giocare 7 più per Pirlo non era facile trasmettere la giusta cattiveria alla Juventus dopo una uscita di pista del genere certo è vero che te l'ha deciso Ronaldo ma è anche vero che ha messo in campo i giocatori in ruoli completamente cioè non stupidi perché ragazzi alla fine i giocatori che ha sono quelli se vedete ogni reparto in porta Buffon fuori in difesa Chiellini e Delicto non al 100% e comunque li ha messi di Tolari perché De Mirale è fuori Alexandro è infortunato e mette Bernardeschi Daniele in mediana alla fine non era facile dunque queste ragazze erano le pagelle di Cagliari e Juventus in una tre se il video ti è piaciuto dimmi da lasciare mi piace in caso di contare un dislike commenta se sei d'accordo se sei d'accordo con me se non l'hai ancora fatto iscrivetevi al canale in descrizione link per seguirmi su Instagram DamoniSport07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi e noi ci vediamo